Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere un po' di monete da 2 euro rare. Eccola qua, partiamo con la prima. È una moneta commemorativa dedicata alle Olimpiadi Invernali Torino 2006. Andiamo avanti. Sempre una moneta, oggi ha tutta una batteria di monete da 2 euro. Sempre dedicata alle Olimpiadi, stavolta estive. Fino è una moneta greca, Olimpiadi di Atene 2004. Un po' rovinata, però è bella comunque. Andiamo avanti e adesso andiamo a vedere delle monete commemorative molto particolari. Eccola qua, la vedete? Questa è dedicata ai 10 anni dell'euro 2002-2012. E questa è italiana. Adesso vi faremo vedere dove sta la realità. Questa chiaramente è comune, ma ce n'è una con errore di conio. Per cui vedete le due stelline al centro? Sono in realtà unite. E questo fa sì che il valore commerciale possa superare i 500 euro. Adesso la vediamo sempre nella serie, diciamo, commemorativa 2002-2012 dell'euro, però di altre nazioni. Questa è tedesca, Deutschland. Molto bella. Andiamo avanti. E andiamo a vedere sempre una moneta commemorativa sull'introduzione dell'euro. Questa qua è comune in tutti gli stati europei. Questa in particolare è del Belgio. Adesso dovremmo avere una moneta sempre commemorativa, introduzione dell'euro del Deutschland, Germania. Sempre 99-2009, invece questa volta, ok, si vede molto bene così, Austria, austriaca. Andiamo avanti invece adesso con un'altra serie. In realtà da un euro, quindi siamo scesi di valore. Povero gabbiano. 2000 serie slovena. E adesso non parliamo di monete, ma una medaglia, diciamo, che introduceva l'arrivo dell'euro. E questa è molto particolare perché è olografica. Adesso la facciamo vedere. Quindi ha doppia versione. La versione euro, vista euro e vista lira. Vista lira. Una medaglia che trasmette il passaggio dall'euro alla lira. Molto bella, eh. Benissimo. Vi aspettiamo adesso ai prossimi... Vedremo altre monete nei prossimi video. Ciao a tutti. e vediamoary a childcare. E andiamo a tutti. Grazie.